Ieri l'ennesima infamia delle teste del cuoio hanno fuggilato e ammazzato dei volontari internazionali. La storia di Tifada, fino alla vittoria, il popolo in rivolta scriverà la storia di Tifada, fino alla vittoria. Quello che stanno vivendo gli uomini e le donne di Gaza, della Palestina, sia qualcosa di una brutalità e di una violenza incredibile, che solo parola genocidio sa spiegare. Il popolo in rivolta si rivolta la storia, in Tifada, fino alla vittoria. Palestina libera, Palestina rossa, Palestina libera, Palestina rossa. Un mondo intero al nostro fianco, che si indigna, che dice no alla brutalità degli eserciti e alla violenza sionista. Portavano cibo, portavano aiuti, agli amici e amiche di Gaza, che da tre anni vivono l'embarco sionista. La storia globale è quella dell'intifada globale. Intifada! 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 Non ci bastano, signor Berlusconi, le menzogne e quelle piccole provocazioni con cui pensi di metterti a posto la coscienza. Sappiamo chi sei e quale progetto dei tuoi soci coltivate per il mondo intero. Un mondo di violenza e brutalità, di oppressione e sfruttamento. Oggi come ieri, anche a Bologna, la piazza dice una parola semplice, una parola semplice quanto potente. Dice no! Dalla parte della solidarietà globale, dalla parte della dignità, oggi come ieri, ancora in piazza, con la stessa voglia di tornare a bloccare i drani della morte. Solidarico ai popoli palestinese, solidarico ai compagni di volta, solidarico ai fratelli e ai sorelli palestinesi. Se non cambierà, intifada sarà! Se non cambierà, intifada sarà! Se non cambierà, intifada sarà! Viva la vittoria! I popoli rimbora! Scrivono la storia! Viva la vittoria! Contro la guerra in Iraq, contro la guerra in Afghanistan, per questo il messaggio che vuoi uomini e donne di Palestina è che non siete soli. Scrivono la storia, intifada, viva la vittoria, Palestina rossa, Palestina linea, Palestina rossa! L'indignazione oggi è forte e intransicente, per questo l'indignazione oggi ci sta portando per la strada e la città, l'importanza è per loro. Perciò, perciò, per loro, 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 per loro. Perunciamo con forza i crimini dello Stato di Israele schierandoci dalla parte giusta, schierandoci dalla parte del popolo palestinese, del popolo afiano, del popolo iracheno. Casa libera, casa libera, casa libera.